Buonasera a tutti ragazzi, stasera voglio fare uno sformato di zucchine, carne macinata e non voglio mettere la mozzarella, ho preso un po' di pecorino romano, quindi mettiamo diciamo una bella base di zucchine schiacciate con la forchetta, vedete? E mettete olio e sale, poi mettete il formaggio, ecco qui ragazzi abbiamo messo il formaggio, adesso metteremo il macinato di pollo, eccolo qui, questo è quello lì senza antibiotico, quindi nella vaschetta diciamo quella dell'aia, io ho preso questa dell'aia, però voi la potete prendere di qualsiasi marca Questo è un pezzo di macinato di pollo di 300 grammi Ecco qui ragazzi, adesso l'ho messo dentro qui come stava per intero, adesso metterò il resto delle zucchine Ecco qui ragazzi, adesso ho messo le zucchine, adesso metto altro formaggio, quindi altro pecorino romano Ecco qui ragazzi, ho fatto un altro strato di pecorino romano, adesso metto il pane grattugiato Ragazzi, adesso è pronto, non ci resta che infornare e quindi mettere nel forno un piatto veloce, facile e subito subito Quindi una cosa sfiziosa, verdure e carne è stata apposta, quindi adesso andiamo a infornare Ecco qua ragazzi, è terminata, come potete vedere Questa è una specie di parmigiano con zucchine e macinato di pollo Come potete vedere sta ancora friggendo, adesso l'ho tolta da forno Quindi ragazzi, buon appetito Eccola qua la foto bella dall'alto Quindi come potete vedere Sfizioso Non tanto pesante, quindi Ecco ragazzi, quindi buon appetito E se permettete Vado a mangiare Ciao a tutti Ciao a tutti